Giornata europea delle persone con disabilità oggi all'istituto comprensivo Giovanni Verga di Gela attraverso un lavoro di rete con l'associazione Orizzonte. Il progetto scuola promosso e coordinato nel territorio da Natale Saluci ha come obiettivo quello di stimolare attraverso la sensibilizzazione degli studenti un costruttivo dialogo con le famiglie degli alunni con e senza disabilità, aumentare i servizi finalizzati all'integrazione, affermare il valore dello sport quale strumento relazionale, riabilitativo e sociale ed infine realizzare eventi e manifestazioni culturali, artistiche e sportive che mirino a valorizzare l'autonomia, l'autodeterminazione e l'autostima della persona disabile per il miglioramento della qualità di vita. C'è un programma che noi inseriamo nell'ambito del piano dell'offerta formativa che si sviluppa durante tutto l'anno però oggi anche gli alunni dell'istituto comprensivo Verga stanno aderendo a questa giornata insieme virtualmente a quei 60 ragazzi che sono accolti dal sottosegretario appunto faraone per discutere, apportare suggerimenti, vagliare su un tavolo come adulti quelle che possono essere le strategie migliori per migliorare la qualità della loro vita. L'obiettivo è di rendere gli studenti consapevoli e responsabili che la diversità non è differenza e che nella diversità si conserva grazie in ricchezza interiore. Gli alunni coordinati dai professori Romano e Veletti apriranno la settimana europea del basket con evento programmato nell'ambito delle attività nazionali di Special Olympics Italia organizzato in collaborazione con l'Orizzonte. Interverranno all'evento il direttore regionale Special Olympics Natale Salucci ed il responsabile regionale dell'area medico-psicopedagogica Francesco Scimonelli. Tutta Europa si svolgono partite unificate tra soggetti diversamente abili e nonne e noi in questa giornata stiamo così festeggiando ricordando che la diversità è un valore aggiunto per cui attraverso gli atleti di Special Olympics e gli atleti dell'Orizzonte abbiamo costruito un percorso nella scuola verga in cui possono conoscere le vere abilità dei ragazzi diversamente abili eliminando i pregiudizi precongetti nei confronti di loro. Faremo delle partite unificate e quindi tutt'assieme cerchiamo di scendere in campo e non guardare l'altro con diffidenza.